L'assessore regionale all'emora sotture Marco Falcone convoca subito l'incontro con tutti i soggetti interessati in merito al progetto d'arsena del porto al fine di verificare la progettualità con la visione del primo e secondo stralcio del progetto. Lo chiede ai deputati regionali gelesi Peppe Arancio e Nuccio Di Paola il comitato del porto del Golfo di Gela presieduto da Massimo Livoti. Si rinnova anche quest'anno la festa di San Giuseppe con il tradizionale allestimento delle cene in onore del Santo Patriarca. Il comune di Gela sta sponsorizzando l'evento. La venerazione a San Giuseppe non è legata solo ad un discorso devozionale, afferma Donnalino di Dio, rettore della chiesa di Sant'Agostino, ma ad un risvolto pratico che è quello della carità. Rispettando la tradizione abbiamo chiesto alle famiglie di non pensare solo ai tre personaggi canonici Giuseppe, Maria e Gesù, ma ad evolvere una parte della cena ad altri poveri. Anche quest'anno la piccola casa della misericordia sta organizzando la cena che sarà allestita nella chiesa di San Francesco di Paola. Nei prossimi giorni saranno consegnati i pacchi alle oltre 700 famiglie che il centro assiste o a quelle che le chiederanno. Le famiglie degli studenti che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, statarie e paritarie, possono presentare stanza per l'assegnazione di borse di studio anno scolastico 2017-2018. La domanda di partecipazione, assieme ai suoi legati, dovrà essere presentata entro e non oltre il 16 aprile ed esclusivamente presso l'istituzione scolastica frequentata dallo studente. Al beneficio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore appartenente a famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ISEE, non superiore a 10.632,94 euro. I modelli di domanda vanno ritirati presso l'istituzione scolastica frequentata dallo studente o scaricati dal sito del comune di Gela. Ritorna il concorso di beneficenza per i talenti siciliani patrocinato dal Rotary Club di Gela, l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Le iscrizioni terminano giovedì 15 marzo prossimo. Interessanti i premi messi a disposizione. La serata finale si svolgerà al Teatro Eschiro di Gela il 7 aprile. Il ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza all'Unicef per la campagna Bambini in Pericolo. Si correrà domenica 18 marzo dalle 9 sullo lungomare Federico II di Svevia a Gela il 14esimo Memorial a Salvatore Zuppardo di ciclismo seconda prova criterium di primavera. Prevista una massiccia partecipazione in gara le categorie debuttanti, veterani 1 e 2, gentleman 1 e 2, super gentleman A e B, cadetti, junior e senior 1 e 2. Il percorso circa 17 giri, la prima batteria e 20 la seconda e il seguente. Si partirà dal Bar Svevia e si percorrerà la via dell'Acropoli via mare, il lungomare Federico II via fiume per ritornare alla via dell'Acropoli. Appuntamento con il teatro all'Eschilo di Gela sabato 17 alle 21 e 15 e domenica 18 marzo alle 17 e 15, Tuccio Musumeci, Mirko Magistro e Guiaiello porteranno in scena il Cavaliere Pedagna di Luigi Capuana, la regia e di Giuseppe Romani. Per informazioni contattare lo 0933 91 18 92 o il 345 58 80 580.